Anche le mie macchine non sono qualche appena. Sono un'intera di agli altri. Anche su quello siamo in questa zona. Questi rientrano le industrie o 4.10. Assolutamente zero. Molte di queste delle nostre imprese hanno usufruito le opportunità. Sì sì sì. Anche quello è stato un'attuale. Sì sì sì. Ma quello è stato un'attuale. Anzi da implementare. Assolutamente. Assolutamente. Tutti altri professionali per maneggiare questi macchinari? Assisti. Tutti i tecnici li dobbiamo potenziarli. Tutti i tecnici, tutti l'ITS, l'ITS dopo la diploma, puntare molto bene. Noi abbiamo bisogno di queste professionalità. Il laureato va benissimo. Assolutamente. Ma il tecnico è esperto, professionalizzato. L'ITS è un buon modello. Per altri doni. Noi. Non si è sì sì.